I bambini rom, sinti e camminati, se vogliono iscriversi all'istituto comprensivo Corner per il nuovo anno scolastico, devono compilare un modello dichiarando la provenienza di origine. Un foglio A4 da consegnare alle famiglie e che ha sollevato un vespaio di polemiche, tanto che per ora di pranzo il dirigente della scuola di Fossò, Carlo Marzolo, visto il putiferio, si affretta a lasciare sulla homepage dell'istituto una nota spiegando l'equivoco. Nessuna discriminazione recita il comunicato, ma si tratta di documentazione per uso interno e saltuario. Ma nel frattempo la notizia comincia a fare il giro del web e il dirigente finisce sotto accusa. Montano le polemiche politiche. Paolo Benveniù, segretario di rifondazione comunista, attacca il dirigente scolastico parlando di pura follia nel consegnare quel documento. Naturalmente questa è una richiesta che non può essere fatta perché è contraria alle leggi vigenti. Non si possono censire dei bambini su base etnica al di là delle intenzioni con cui viene fatta questa richiesta. Dopodiché abbiamo deciso di intervenire perché questo modulo venisse ritirato. Quanto accaduto conferma il grave pregiudizio nei confronti di Rom, Sinti e Camminanti, dice la mediatrice culturale attivista Rom Diana Pavlovich, giustificandolo come elemento per favorire l'integrazione. In causa viene chiamato anche l'ufficio scolastico regionale e la risposta non si fa attendere. La stessa direttrice, Augusta Calenda, ascoltata sui moduli da consegnare alle famiglie, parla di iniziativa inopportuna e di qualche segreteria un po' troppo zelante, sempre se il modello spiega ancora non si tratti di farina del sacco dello stesso dirigente.